Con la tragica scomparsa di Tristan, terminerà la seconda stagione del Segreto, e Candela, che diventerà vedova proprio nel giorno delle nozze, ne uscirà distrutta. Come anticipato, le prossime puntate del Segreto saranno dense di eventi. I fari saranno puntati su Gonzalo e Maria, che vivranno ancora per un po' il loro amore clandestino. Asinta tornerà molto presto per compiere la sua lunga e inesorabile vendetta. Dopo la morte dell'amato marito, la pasticcera di Puente e Vieco sarà attanagliata dal dolore. A sostenerla, Aurora, Gonzalo e Maria, che come sempre le dimostreranno affetto e riconoscenza. Proprio quando la donna comincerà lentamente a riprendersi, scoprirà di aspettare un figlio. Chi è il padre? Naturalmente Tristan. Questa lieta notizia darà molta forza alla Mendizabal. Ci si domanda quale sarà la sorte del nascituro. Avrà vita facile oppure diventerà l'ennesimo bersaglio della sete di vendetta di Acinta Aramuz. Quello che è certo è che Candela lo difenderà contro tutti e tutto, essendo l'unico ricordo tangibile del suo grande amore Tristan.